Presidente, siamo tutti coscienti che dobbiamo fare di questa istituzione un esempio di sobrietà e di risparmio e sappiamo benissimo che sui giornali e nelle televisioni si vanno ad attaccare sempre le solite categorie che dentro questi palazzi comunque lavorano. Allora io dico che comunque gli organi che gestiscono questa istituzione dovrebbero dare l'esempio, perché proprio in questo momento presso la sala Busti, su organizzazione dei questori, si sta organizzando un incontro organizzato dell'Inter Club, quindi si stanno utilizzando personale, spazi, energie e costi quindi di questa istituzione per un'attività sportiva. Non ha a che fare con i lavori dell'Aula, però bisogna che l'ordine dei lavori è un'altra cosa, è relativo alle procedure di ciò che stiamo facendo in quest'Aula, quindi io sono costretta la ringrazio per la segnalazione, però sono costretta a togliere la parola e a tornare all'ordine dei lavori.